Ha pranzato insieme ai genitori, alle 15 è uscita di casa. Quella è stata l'ultima volta che i genitori hanno visto la loro figlia in vita. Domani a Pescara, Auditorium Flaiano e Domenica, all'Aquila, ridotto del teatro comunale in scena, Natura Morte in un fosso poliziesco di Fausto Paravidino, che affronta il tema del femminicidio in modo diretto e inusuale. Tutto parte dall'omicidio della giovane Elisa e si sviluppa in un intreccio di indagini tra sesso, droga e ricatti, utilizzando un linguaggio crudo e non convenzionale. La storia è stata adattata e portata in scena da Giampiero Mancini, che spiega. La Natura Morte in un fosso è una ragazza di 20 anni, quindi parliamo di femminicidio e ne parliamo in maniera dura e cruda. Io sono un attore prettamente televisivo, faccio anche tanto teatro quando sono fortunato e mi capita di farlo. Il successo di questa tournée da tutti i sauriti è che è partita dalla Puglia, devo dire, e anche domani al Flaiano vedranno un sold out e anche all'Aquila domenica vedranno un sold out, è che è molto poco teatrale, nell'accezione negativa del termine teatrale, non è vero. Quindi ci sono state delle difficoltà supplementari? Sì, supplementari sì, soprattutto perché bisognava cercare un linguaggio che parlasse ai giovani, parlasse ai giovani evitando due morbi che affliggono noi attori di televisione e cinema, che è il flat character, ossia che tutti i personaggi parla tutti allo stesso modo, tutti in maniera assolutamente identica, senza nessuna commistione, nessuna sfumatura fra il bene e il male. C'è questa idea manichea che il bene sia da una parte e il male dall'altra, mentre in realtà i confini sono molto più confusi. E soprattutto si parla in italiese, invece in uno spettacolo come questo i pusher parlano come i pusher, gli spacciatori come gli spacciatori, abbiamo incontrato le scuole, abbiamo incontrato i ragazzi, e quindi hanno visto tutti e vedranno tutti qualcosa molto più vicino alla loro serie preferita, che è uno spettacolo teatrale. Questa è la chiave. Poi chiaramente parliamo di tanti temi, non soltanto il femminicidio, parliamo di gaslighting, di manipolazione, il tutto con un linguaggio molto cruento, senza emozioni coercitive, non cerchiamo niente che sia patetico, ma è la realtà ad essere toccante, è la realtà ad essere emozionale. Lei ricoverà il ruolo del commissario, quindi alla fine risolverà il caso. Un commissario con tanti dubbi, no? Rimaniamo con tanti dubbi perché un commissario... La meraviglia di questo spettacolo che si chiama Natura Morti in un fosso è che tutti i personaggi sono in un fosso e sono tutti in una linea di confine, in un luogo in cui non vogliono stare, sono tutti in un non luogo come Elisa in quel fosso. Parliamo anche un momentino del cast, tanti ragazzi, tanti giovani che magari si sono avvicinati al teatro da poco, però questo non vuol dire nulla, anzi è un valore aggiunto. Assolutamente, nella mia compagnia cerco sempre di premiare quelli che sono pronti per lavorare, poi devo dire che lo SMO è una vetrina molto preziosa in cui vengono mensilmente a fare le spese, i casting, e abbiamo dei tre attori debuttanti, di cui due ragazze, Giulia Pellicciaro e Alessandra Romolo. Insomma, siamo contentissimi di questi gioielli che mostriamo per la prima volta. Grazie.